Restiamo aperti alle sorprese di Dio e non resistiamo allo Spirito Santo, chiedendo la grazia del discernimento per non sbagliare strada e non cadere nella rigidità del cuore. È stato l'invito di Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino a Casa Santa Marta, nella quale ha commentato la pagina degli Atti degli Apostoli, che narra del confronto tra San Pietro e la prima comunità cristiana sull'apertura della Chiesa ai pagani. Pietro capisce il segno di Dio che manda il dono dello Spirito anche ai pagani, si apre alla sorpresa del Signore e chiede agli Apostoli di fare il passo avanti che Dio vuole. La chiusura, la resistenza allo Spirito Santo, quella frase che chiude sempre, che ti ferma, sempre è stato fatto così. E questo uccide, questo uccide la libertà, uccide la gioia, uccide la fedeltà allo Spirito Santo che sempre agisce in avanti, portando in avanti la Chiesa. Ma come posso io sapere se una cosa è dello Spirito Santo o è della mondanità, dello Spirito del mondo o è dello Spirito del diavolo? composto e chiedere la grazia del discernimento. Lo strumento che lo stesso Spirito ci dà è il discernimento. discernere in ogni caso come si deve fare. E' quello che hanno fatto gli Apostoli. Si sono riuniti, hanno parlato e hanno visto che quello era la strada dello Spirito Santo. Invece quelli che non avevano questo dono, non avevano pregato per chiederlo, sono rimasti chiusi e fermi.